Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di questo libro, Stilografiche, breve viaggio per entrare in un mondo affascinante. L'autore è Stefano Martini, il testo è giunto alla sua terza edizione. L'autore è un appassionato di penne stilografiche e con questo volume vuole offrire una traccia, un aiuto a chiunque voglia avvicinarsi al panorama della scrittura appunto con le penne stilografiche e perché no, anche a chi decide di riprenderle in mano dopo tanti anni. Non vuole essere una trattazione completa, quanto piuttosto uno strumento di semplice fruizione per fornire informazioni basilari che possano magari instillare nel lettore la voglia di approfondire gli argomenti trattati. Non è diviso in capitoli o sezioni ben distinte, presenta piuttosto un approccio colloquiale. Immaginate delle persone sedute ad un tavolino di un bar, una chiede che gli venga descritto questo mondo ed un'altra, appassionata di stilografiche, inizia a raccontare il viaggio nello scenario della scrittura manuale e in particolare usando appunto delle stilografiche. Vi leggo a tal proposito una frase dell'autore che a mio personale avviso riassume il suo pensiero e indica il perché della stesura di questo volume. Questo è un segnalibro che ho posizionato io. La frase eccola qui a pagina 92. Se con questo breve testo sarò riuscito ad avvicinare qualche lettore al mondo delle stilografiche o avrò indotto a riprendere in mano una stilografica lasciata magari da anni nel fondo di un cassetto, avrò raggiunto il mio scopo. Ma cosa c'è al suo interno? Qual è il contenuto? Andiamo un po' a descriverlo. Si parte con dei brevissimi cenni storici e alcune considerazioni sui principali produttori. Poi naturalmente si parla del pennino, anima e cuore pulsante delle stilografiche, in quali formati è disponibile differenze tra quelli in oro e quelli in acciaio. Poi i sistemi di caricamento per l'inchiostro, la chiusura a cappuccio, la clip, materiali usati per il fusto, come pulire una stilografica, cosa fondamentale per chi usa una penna di questa tipologia, informazioni utili sugli inchiostri, nonché sulle carte più idonee all'impiego con le stilografiche. Il tutto è corredato qui e là da riferimenti per approfondire i singoli argomenti, libri, siti web, forum, canali youtube, negozi ed altro. Ottime le considerazioni sui prezzi, che peraltro io condivido appieno. Non bisogna spendere cifre esagerate per dotarsi di una valida stilografica, anzi talvolta bastano poche decine di euro per ottenere una buonissima esperienza di scrittura. Si parla poi di collezionismo e non mancano infine alcune utili informazioni sulle matite. Ciliegina sulla torta, una sorta di contenuto bonus, l'appendice di Ernesto Casciato, maestro di calligrafia e grande conoscitore delle stilografiche. Parla della loro importanza, del rinnovato interesse oggi per la calligrafia e in generale per la scrittura a mano. Nella parte finale del volume alcune tavole con disegni esplicativi, peraltro molto belli con il loro stile vintage. Ho da poco finito di leggerlo e posso riportare le mie opinioni. È un testo di 120 pagine che tratta di tanti argomenti, ma come già detto si tratta per lo più di accenni e informazioni generiche. Risulta essere davvero di agevole lettura, estremamente scorrevole. I miei sinceri complimenti sia a Stefano che a tutti coloro che lo hanno aiutato nella stesura e realizzazione dell'opera. La rilegatura del volume è in brossura cucita a filorefe resistente e duratura. Le pagine sono stampate, piegate e riunite a formare sei guadernini. Ecco qui, qui si vede un po', togliamo il segnalibro, il dettaglio della rilegatura. Vedete, sono sei guadernini, sono ovviamente cuciti e poi questi a loro volta sono incollati alla copertina. La carta è una pregiata carta avoriata con una grammatura, sono 120 grammi al metro quadro, quindi decisamente spessa, non stanca durante la lettura. È abbastanza spessa, come abbiamo detto, la copertina è in carta Modigliani bianca, questa qui, da 260 grammi al metro quadro, quindi è un cartoncino con questa finitura, questa trama superficiale, una nota di merito per il carattere di stampa, che ha delle dimensioni tali da garantire una buona leggibilità a tutti, anche a chi invece avrebbe difficoltà con i caratteri più piccoli. Davvero, davvero buono. Bene, ma tutto ciò quanto costa? Quanto bisogna spendere per entrare in possesso di tale libro? Beh, molti già ne saranno a conoscenza, ma credo sia giusto sottolinearlo. L'autore, Stefano Martini, ha immesso nella realizzazione del libro tanta passione, ma anche soldi, in quanto lo ha autoprodotto, tutto a sue spese, e non si tratta di pochi spiccioli. E poi ha deciso, sì, facciamo una pausa perché, un po' di enfasi, sì, ha deciso di regalarlo. Avete sentito bene, il volume è completamente gratuito. La tiratura attuale è di 300 copie, gran parte delle quali sono state spedite a diversi negozi distribuiti sul territorio nazionale, negozi che ovviamente trattano pene stilografiche, verrà naturale. Saranno poi gli stessi negozianti a farne dono ai loro clienti. Se qualche negozio volesse averne delle copie, può richiederle alla tipografia che cura la realizzazione fisica del volume, ovvero la CR grafica, ovviamente pagando le spese per la stampa. I contatti sono comunque riportati in ultima pagina. Qui ci sono tutti i contatti, i ringraziamenti, questi addirittura sono volumi numerati dallo stesso autore, e qui il contatto per poterne richiedere delle copie pagando, come ho detto, almeno le spese di stampa. Stefano mi ha detto che è possibile personalizzarlo apponendo, ad esempio, il logo e il nome del negozio in ultima di copertina, quindi non so, credo che sia da questa parte all'esterno, una sorta di forma pubblicitaria per il negozio, per chi lo distribuisce. Magari chiedete in tipografia per ulteriori chiarimenti. Comunque, molto importante, il libro è gratuito e non può essere assolutamente rivenduto. Ok, a questo punto qualcuno potrebbe chiederselo. Ho contattato vari negozi e non riesco a reperire una copia. Cosa faccio? Beh, io direi così, ma proprio una mia opinione personale, provate comunque a contattare la tipografia, non si sa mai, magari ne ha qualche copia lì da parte, pagate la spedizione e ve la fate mandare. Comunque dovreste contattare tutti i negozi nella vostra zona, quelli che per voi sono raggiungibili, e vedere un po' se riuscite a trovarlo. In ogni caso, è sempre bene ricordarlo. Il fatto che sia gratuito non significa averne la piena proprietà intellettuale che è e rimane sempre dell'autore. Ergo, non siamo autorizzati a diffonderlo sotto forma di fotocopie e neanche creare una copia digitale in pdf. Solo l'autore può decidere in tal senso. Detto ciò, grazie Stefano per questo prezioso dono. È un vero piacere, è stato un vero piacere conoscerti. Auguro a tutti voi ascoltatori di questo video una buona lettura. Vi saluto, ciao e a presto.